La vestizione, rimuovere i monili, legare i capelli, lavare le mani, disinfettare le mani, indossare i primi guanti, indossare la mascherina, applicarla bene, indossare la tenagola, indossare i calzari, indossare il camice con l'aiuto del secondo operatore, indossare la misiera, indossare la misiera, Alla fine indossare gli ultimi guanti Una volta finito si procede con la svestizione Come prima cosa lavare le mani Rimuovere i primi guanti Lavare ancora le mani Rimuovere la visiera E smaltirla E lavare ancora le mani Intanto si laverà le mani anche l'altro operatore E ci si aiuterà poi a rimuovere il camice l'uno con l'altro Rimuovere il camice raccogliendo esternamente E stando attenti a non toccarsi contaminandosi Una volta eliminato il camice Si laveranno ancora le mani Passare ora alla rimozione della tenagola Lavare ancora le mani Rimuovere i calzari Lasciando come ultima cosa la mascherina Ok? rimuovere la mascherina toccando il meno possibile i capelli smantirla lavare ancora le mani e rimuovere infine i guanti lavare ancora le mani la mani la mani la mani la mani